Oggi andiamo a vedere una lezione che si intitola Immaginazione più fede, del 1971. Questa serie è davvero una combinazione della legge e della promessa. Questa sera naturalmente sarà la legge, tuttavia alcune parti della promessa possono esservi intrecciate. Il titolo, come sapete, è Immaginazione più fede. Io credo fermamente che l'uomo sia tutta immaginazione, Dio è l'uomo, ed esiste in noi e noi in Lui. William Blake, annotazioni alla Siris di Berkeley. Il corpo eterno dell'uomo è l'immaginazione, e questo è Dio stesso. William Blake, Lacoon, The Angel of the Divine Promise. Il corpo divino di cui parliamo come Gesù Cristo, credo fermamente che questo sia il Cristo delle scritture che è sepolto nell'uomo, sepolto nell'unico santo sepolcro che ci sia mai stato, e che è il cranio dell'uomo. E lì Egli sogna il sogno della vita, e un giorno Egli si risveglierà nel tuo cranio, e allora il drama di Cristo, come definito per noi nella scrittura, si svolgerà in te, gettandoti nell'esperienza del Signore Gesù Cristo in prima persona singolare al presente. Allora saprai chi è veramente. Ti risveglierà effettivamente come il Signore Gesù Cristo. Questo è il culmine per tutti i nati da una donna. Ma stasera torniamo a ciò che intendo per immaginazione e ciò che intendo per fede. Prima di tutto la fede è definita per noi nell'undicesimo capitolo del Libro degli Ebrei. È chiamato un inno in lode della fede. La fede è la certezza delle cose che si sperano, la convinzione delle cose che non si vedono. Ebrei 11.1 Per fede comprendiamo che un mondo è stato creato dalla parola di Dio, così che le cose viste sono fatte da cose che non appaiono. Ora, se la fede è la prova delle cose non viste e tutte le cose sono fatte di cose che non appaiono, allora dobbiamo giungere alla conclusione che ogni effetto naturale ha una causa spirituale e non naturale. Una causa naturale è solo apparente. È un'illusione della memoria che svanisce. L'uomo non ricorda le sue azioni immaginarie così, quando esse vengono fuori e raccolto e maturato, e li nega il suo stesso raccolto. Non può vedere come quello che sta vivendo ora possa essere stato causato da lui, perché ha dimenticato i suoi atti immaginari. È allora che l'ha seminato. E tutte le cose producono secondo il loro genere. Nessuno si lascia ingannare, perché Dio, che è la sua stessa immaginazione, non si fa beffe, come un uomo semina, così raccoglie. Galati 6,7 Così io sono sempre a raccogliere ciò che ho seminato, ma a causa della mia memoria sbiadita, non posso ricordare quando l'ho fatto. Così nego quello che sto vedendo come il mio raccolto. Beh, ora, chi è questo Dio di cui si parla in questo versetto? Ha detto, Per fede comprendiamo che il mondo è stato creato dalla parola di Dio. Ebrei 11,3 Ebbene, ci viene detto nella scrittura, nei primissimi versi del libro di Giovanni, in principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Giovanni 1,1 Ci viene detto, il verbo si fece carne e venne ad abitare in noi. Giovanni 1,14 Quindi il verbo di cui si parla qui è equiparato a Dio. Se la parola non era solo con Dio, era Dio, beh, allora è Dio, e ora abita in noi. Ebbene, io vi dico che questa parola che abita in voi, di cui si parla nelle scritture come il Signor Gesù Cristo, è la vostra meravigliosa immaginazione umana. Questo è il più grande segreto del mondo, e tutti dovrebbero sforzarsi di risolverlo. Il potere supremo, la saggezza suprema, la gioia suprema, sta nella soluzione di questo mistero. Così per quanto riguarda il Dio che ha creato tutto e sostiene tutto, è pura immaginazione in me stesso. Lavora nella profondità della mia anima, alla base di tutte le mie facoltà, compresa la percezione. Ma si riversa nella mia vita di superficie, almeno mascherato sotto forma di fantasia produttiva, come un sogno a occhi aperti. Un sogno a occhi aperti e produttivo. Un sogno a occhi aperti e creativo. Sto piantando quando sogno ad occhi aperti. Non devo essere intenso per gettare un seme. Non deve andare in giro a scavare una buca e seppellirlo. Posso spargerlo. Quindi un sogno a occhi aperti è una semina. Allora mi siedo e mi chiedo, lo sto facendo con amore? Non sempre mi controllo. Posso leggere il giornale del mattino e poi reagire per una storia che non so se è vera o falsa, ma reagisco. Ebbene, essa sa esattamente quello che ho fatto ed è la mia immaginazione. Tiene il conto. E così, col tempo, il raccolto verrà fuori e io lo vedrò. Quindi tutta la realtà oggettiva è prodotta unicamente attraverso l'immaginazione. Quindi dico, immaginazione più fede. Devo credere effettivamente nell'atto immaginale. Ora, come faccio a farlo? Questa è la cosa importante. Mi è stato detto da uno studioso che se le cose ordinarie che osservo in questo mondo corporeo se sono presenti è senso se sono assenti quella è immaginazione. La stanza intorno a me mi sembra più reale di qualsiasi altra cosa al mondo perché è presente eppure sto in piedi. Non ho familiarità con questa stanza tranne una volta all'anno che vengo per dieci notti. Conosco molto di più la casa che ho a Los Angeles ma al momento non è presente ai miei sensi quindi mi è stato detto che è solo un'immaginazione. Quella è semplicemente un'immagine di memoria di ciò che potrebbe essere ancora una realtà ma al momento potrebbe essere sparita. Eppure io non penso che non ci sia più. Va bene se lo penso ma non è presente allora questa è immaginazione ma se le cose sono presenti allora questa è senso. Bene come faccio a rendere reale ciò che non è presente? È qui che arriviamo all'immaginazione più la fede. L'ho provato innumerevoli volte e posso dirvi che funziona. Potrei stare qui e fare una casistica. Anni fa subito dopo la seconda guerra mondiale l'anno era 1945 salpai con la mia piccola famiglia mia moglie e mia figlia verso l'isola di Barbados. Non avevo visto la famiglia durante gli anni della guerra perché non c'erano mezzi di trasporto disponibili. Sono stato nell'esercito per un periodo molto breve circa 4 mesi. Sono stato congedato con onore perché avevo più di 38 anni. Mio figlio era nei Marines a Guadalcanal ma la mia bambina aveva solo pochi mesi così alla fine del 1945 sono salpato. sulla prima nave in partenza perché non c'erano aerei che portavano qualcuno nelle Indie così salpai con mia moglie e la mia bambina con un biglietto di solo andata senza pensare neanche per un momento alla difficoltà di tornare a New York nonostante avessi preso l'impegno di essere a Melwake la prima settimana di maggio così sono salpato alla fine di dicembre Capodanno per essere esatti alla fine di circa tre mesi mio fratello Victor mi disse hai un biglietto di ritorno? No ma voglio tornare la prima settimana di maggio per andare a Milwaukee lui disse come osi lasciare la capitale del mondo finanziario New York senza aver preso accordi tutte le cose si fanno lì e voi siete venuti in un'isoletta come Barbados e noi abbiamo solo due piccole navi una che trasporta un massimo di 65 passeggeri e l'altra che ne trasporta un massimo di 120 fanno solo un viaggio di andata e ritorno uno lo fa ogni 21 giorni e l'altra lo fa ogni 32 giorni e come usate uscire sapendo che dovete tornare senza prendere accordi a New York? beh alla fine è andata benissimo mi sono seduto nella mia stanza d'albergo in una bella poltrona e ho supposto che fossi su una piccola barca che mi avrebbe portato alla nave perché a quei tempi non avevamo un porto grande ora ne abbiamo uno ma non era non c'era un porto di acque profonde quindi ho supposto di essere su una piccola barca che mi portava alla nave e che mio fratello Victor e mia sorella Daphne mia moglie e altri membri della mia famiglia e la piccola Vicky fossero tutti a bordo della barca poi ho pensato che stavo scendendo da questa barchetta sulla passerella potevo sentire il ritmo la mia mente vagava prima che arrivasse alla fine così sono tornato di nuovo indietro e ho ricominciato tutto da capo la mia mente vagava di nuovo sono tornato indietro e l'ho rifatto quando sono arrivato in cima non c'era più spazio o semplicemente su posto la mia mano è sul parapeto potevo sentire il sale del mare sul parapeto potevo sentire il sale del mare nell'aria e poi ho guardato verso l'isola di Barbados con una sensazione mista di tristezza perché stavo lasciando la mia famiglia e di gioia perché stavo tornando in America dove vivo ora era un sentimento particolare ma era un sentimento naturale e mentre mi tenevo alla ringhiera e assumevo questo stato mi sono poi addormentato sulla sedia ora devo tornare indietro quando sono andata all'agenzia dei Barbados per prenotare i posti mi hanno detto non hai neanche una remota possibilità di uscire da Barbados fino a ottobre nessuna possibilità di uscirne avevano una lista così lunga e io ero in fondo la lista Trinidad aveva una lista molto più lunga perché avevano molta più gente tutte le esore hanno liste c'erano letteralmente migliaia di persone che aspettavano di salire a bordo e avevano solo due navi una con 65 e una con 120 passeggeri allora mi dissero signor Goddard lei non ha nessuna possibilità di uscire prima di ottobre poi mi sono seduto e ho fatto quello che avrebbe implicato se io fossi in navigazione ho semplicemente fatto esattamente quello che sapevo di dover fare mi sono semplicemente appropriato soggettivamente della mia speranza oggettiva speravo di navigare su quella nave e così mi sono appropriato soggettivamente della speranza oggettiva perché se stessi navigando salirei su quella barca scenderei sulla passerella e salirei sul ponte della nave l'indomani stesso non mi ero ancora vestito non avevo niente da fare se non andare in spiaggia in tarda mattinata suonò il telefono ed era la compagnia Alcoa Steamship Company che mi diceva di scendere avevano notizie per me ho chiesto quali notizie dissero che aveva un passaggio per tre persone sulla prossima nave in arrivo per il primo maggio a New York sono andato subito in agenzia ero molto curioso e ho chiesto perché l'ho offrita a me quando la lista mi avete detto è così lunga con centinaia e centinaia di persone in attesa che sono tutte davanti a me e a cosa è dovuto questo posto vagante c'era una signora all'isola che desiderava ardentemente andarsene e tornare in America la prima scelta sarebbe stata questa signora beh improvvisamente ha cambiato idea al riguardo poi hanno scorto l'intera lista e senza alcun motivo ci hanno assegnato i posti e così hanno giustificato la nave ospita solo due persone in ogni stanza ma la vostra bambina ha solo tre anni e può dormire con voi così poiché è una bambina così piccola vi abbiamo dato la cucetta da due anche se siete in tre gli altri due che abbiamo nella lista non potrebbero condividerla perché sono di sesso diverso e non sono sposati ecco come ha giustificato il fatto di avermi chiamato quando centinaia di persone mi precedevano so come ho fatto ogni effetto naturale ha una causa spirituale e non naturale una causa naturale è solo apparente è un'illusione bene mi sono ricordato di quello che ho fatto era solo una questione di 24 ore tra il piantare quel seme e il germogliare in quel seme nella realtà oggettiva il 20 aprile ero su quella nave scendendo a New York il primo maggio per presenziare il mio appuntamento a Milwaukee potrei moltiplicare questo per decine e decine di storie e ce ne sono innumerevoli altre di quelli che partecipano alle mie riunioni quindi è semplicemente immaginazione più fede come ci è stato detto senza fede è impossibile piacerli quello che ci piace non è una un qualunque essere esterno è interno è la vostra meravigliosa immaginazione ora vi metterò alla prova ci viene detto nel tredicesimo capitolo dei due corinzi esaminatevi per vedere se siete fedeli mettetevi alla prova non vi rendete conto che Gesù Cristo è in voi a meno che l'esito della prova sia negativa secondo corinzi 13 5 ora vi ho appena dato la prova questa è la prova se la parola Dio Signore Gesù Cristo trasmette il senso di un qualcosa di esistente al di fuori dell'uomo avete fallito la prova perché Gesù Cristo è in voi ha detto esaminatevi per vedere se state mantenendo la fede mettetevi alla prova non vi rendete conto che Gesù Cristo è in voi se la parola Gesù Cristo trasmette l'esistenza di qualcuno al di fuori di voi non avete superato la prova tutte le cose sono fate da lui senza di lui non è stato fatto nulla di ciò che è stato fatto Giovanni 1 3 ed egli è la tua stessa meravigliosa immaginazione umana così qui quando sapete a chi pregate e chi lo sta effettivamente facendo scoprirete che la vostra meravigliosa immaginazione umana questo è Dio tutte le cose esistono nell'immaginazione umana William Black da Gerusalemme non c'è una sola cosa in questo mondo che tu e io chiamiamo reale oggettivamente reale che non sia stato prima solo immaginato l'edificio in cui ora siamo seduti tutti qui il legge o i vestiti che indossate nominate qualsiasi cosa qui potete andare oltre verso gli alberi quelli non li abbiamo fatti con l'immaginazione ma è stato l'immaginazione divina la stessa dell'immaginazione umana solo che noi siamo in chiave bassa è la stessa immaginazione perché c'è solo Dio quindi l'immaginazione umana è una cosa sola con l'immaginazione divina al nostro livello Dio si è abbassato con le debolezze e le limitazioni del corpo Dio letteralmente è diventato come noi affinché noi possiamo essere come lui per diventare uomo non poteva solo fingere dovete diventare effettivamente uomo con tutte le debolezze con tutti i limiti e la fragilità dell'uomo e assumerlo completamente poi col tempo il tutto si dispiega nell'uomo e l'uomo scopre di essere Dio scopre di essere Dio perché il drama è completamente registrato per lui tutto ciò che viene detto di Gesù Cristo nelle scritture tu lo sperimenterai come qualcosa che si svolge dentro di te non qualcosa di cui leggi come nel caso della lettura di un altro no è tutto fatto dentro di te tu rimani mutolito sei stupito oltre ogni misura e convinzione non puoi crederci che tu ancora sei capace di beh azioni poco piacevoli possa essere così glorificato eppure non puoi negare l'evidenza dei tuoi sensi non puoi negare le esperienze che hai avuto e il tutto si dispiegherà in te lo saprete per esperienza non sto teorizzando non sto speculando nessuno me l'ha insegnato non l'ho mai letto in un libro e non l'ho mai visto nella Bibbia finché non me ne ho fatto esperienza e poi sono tornato indietro e ho fatto ricerche nelle scritture per scoprire che è tutto lì ma adombrato non era esplicato in modo che l'uomo potesse capirlo l'intera cosa è un'adombrazione dall'inizio alla fine e quando avviene nell'uomo è l'uomo in cui avviene e lo racconta quelli che lo ascoltano non possono crederci perché lo conoscono conoscono il suo passato conoscono il suo passato in ogni piccolo dettaglio e non possono credere che il loro concetto tradizionale di Gesù Cristo sia quello di cui sta parlando e che è effettivamente svolto in lui la Bibbia racconta la stessa storia venne dai suoi e i suoi non la ricevettero Giovanni 1 11 perché in realtà alla fine c'è solo il Signore Gesù Cristo c'è solo Dio Dio è soppolto in ogni essere del mondo e solo Dio risorgerà e risorgerà nell'individuo e l'individuo in cui risorgerà saprà chi è e sarà il Dio delle scritture questa è la storia ma stasera a livello pratico provate voi sapendo chi lo sta facendo che è Dio che lo fa e Dio è la vostra meravigliosa immaginazione umana ora prendete la fede come definita per noi nell'undicesimo capitolo del libro degli ebrei e vedrete che è semplicemente l'appropriazione soggettiva della speranza oggettiva io volevo essere su quella nave quella era la mia speranza oggettiva beh prima me ne sono appropriato soggettivamente l'ho fatto come se fosse vero ho agito effettivamente come se la cosa fosse accaduta salì sulla passerella mi teni al parapeto mi guardai indietro con sentimenti contrastanti e poi mi addormentai e quando mi sono ritrovato a vagare sono tornato al primissimo passo della passerella e l'ho fatto di nuovo e ho continuato a farlo ancora e ancora finché non ho potuto camminare proprio su quella passerella e sentire di essere davvero in cima e girarmi e mettere la mano sul parapeto e stranamente nella mia immaginazione ho permesso a mio fratello Victor di portare mia figlia Vittoria sulla passerella e per giustificare la sua azione quando siamo scesi dalla piccola barca sulla passerella ho detto vieni le braccia di tuo padre non sono abbastanza forti per portarti ma le mie braccia erano certamente abbastanza forti per portare mia figlia ma lui doveva giustificarsi come facciamo tutti ho dovuto giustificare quell'azione e poi l'ho presa in braccio ebbene questo è esattamente quello che ho fatto quando siamo arrivati alla barca quindi ecco vi chiedo di ascoltarlo e non dire beh l'ho sentito ma provatelo anche voi sarete la forza operante non funziona da solo noi siamo il potere operante in effetti tutto il giorno lo stiamo operando ma vorrei chiedere a tutti di operarlo saggiamente nobilmente consciemente e non andare in una fantasia sfrenata che domani quando verrà fuori non dimenticheremo il raccolto perché tutto nel nostro mondo una volta è stato immaginato dall'uomo e tutti gli uomini d'azione nel nostro mondo che vedete fuori a costruire gli edifici e a fare tutti gli affari non sono altro che gli strumenti inconsci di uomini immaginifici un uomo si siede a una tavola da disegno e concepisce un edificio fa tutto nella sua immaginazione e poi gira il progetto agli uomini d'azione che si prendono tutto il merito ma l'uomo che l'ha fatto era semplicemente l'uomo dell'immaginazione questo è ciò che intendeva William Butler Eats avendo visto questa legge in funzione disse non sarò mai più sicuro che non sia stato qualche donna che ha calpestato il torchio a provocare quell'improvviso cambiamento nella mente degli uomini e a causa di ciò tante nazioni sono state in guerra per qualche sogno nella mente di qualche pastorello che ha illuminato i suoi occhi per un momento prima di proseguire il suo cammino molti uomini stasera sono in prigione e ingiustamente li sanno di non aver commesso il crimine per il quale sono stati accusati e stanno pagando un prezzo che sentono di non dover pagare la mente di quell'uomo è infiammata e cosa sta facendo sta passando inosservata ma gli eventi appaiono nel mondo allora io mi fermerei qui perché questa lezione è abbastanza lunga quindi domani partiamo da qui per vedere la seconda parte grazie mille a domani ciao a tutti grazie